In questa pillola di Dante Ciac vorrei parlarvi di Luigi Bonelli che è stato soprattutto un drammaturgo, un importante autore teatrale. La vita e l'esperienza artistica di Luigi Bonelli sono state rievocate in questo libro scritto da una delle figlie, Rilli. Il libro si intitola Cetoff, mio padre, la storia di Luigi Bonelli, scrittore senese, pubblicato da Betti nel 2005. Perché Cetoff? Perché Luigi Bonelli escogitò un curioso stratagemma per gabbare la critica e il pubblico dell'epoca in cui si cimentava come autore teatrale. Erano anni in cui nel nostro paese regnava una certa esterofilia. E così Bonelli pensò bene di dichiararsi il traduttore italiano di un famoso autore russo. Ma questo autore russo non esisteva perché era egli stesso. Quindi questo Vasili Cetoff-Stemberg in realtà era semplicemente un paravento, un modo per rendere più appetibile la produzione teatrale dello stesso Luigi Bonelli. Questa burla fu architettata da Bonelli insieme a Carlo Ludovico Bragaia. Ma a un certo punto le opere di Cetoff avevano un tale successo che i due decisero di dichiarare la verità. E questo avvenne in occasione del successo di una di queste pièce firmate Cetoff, l'imperatore, interpretata nel ruolo del protagonista da Memo Benassi. Ma perché Luigi Bonelli è protagonista di una pillola in cui ci interroghiamo e riflettiamo sulle influenze dantesche nei mass media? Perché Luigi Bonelli, in qualità di soggettista cinematografico, ha messo le mani su due film di contenuto dantesco. Il primo è Pia dei Ptolomei, un film del 1941 diretto da Esodo Pratelli ed interpretato nel ruolo della protagonista da Germana Paolieri, affiancata da Carlo Tamberlani nei panni di Nello e da Nino Crisman in quelli di Ghino. Esodo Pratelli è un regista di pochi film ma interessanti, per esempio ha diretto anche Edoardo e Peppino De Filippo in A chi cosa servono questi quattrini e poi ha diretto un interessante film d'aviazione come Gente dell'Area, il cui soggetto fu scritto niente meno che da Bruno Mussolini, il figlio aviatore del Duce. Non era peraltro la prima volta che si portava sul grande schermo il personaggio come noto protagonista del canto quinto del Purgatorio. Già nel 1910 c'era stato un Pia dei Ptolomei prodotto dalla film d'arte italiana che era l'emanazione italiana della francese Patè, un film diretto da Gerola Monosavidi interpretato da Francesca Bertini. Il secondo film di argomento dantesco di cui Bonelli fu soggettista è Il conte Ugolino, un film del 1949 diretto da Riccardo Freda, con protagonista Carlo Ninki affiancato da Gianna Maria Canale, la moglie del regista Freda che interpreta uno dei figli di Ugolino e quindi l'antagonista è Peter Trent, attore inglese nei panni del cardinale Ruggeri, il fiero pasto di cui scrive Dante. Molto interessante l'ultima sequenza di questo film, molto ben costruito sia sotto il profilo dello sviluppo narrativo che sotto l'aspetto spettacolare, basti pensare che i duelli sono affidati al grande musumeci greco. Molto interessante, dicevo, la sequenza finale in cui noi vediamo l'orrore, un orrore indicibile, quello di un uomo che come naturalmente sa chi ha letto il canto trentatresimo dell'inferno, arriva addirittura a cibarsi dei propri figli per fame, leggiamo quest'orrore indicibile, non rappresentato e non lo vediamo perché Freda non ce lo fa vedere negli occhi di una delle figlie, appunto quella interpretata da Gianna Maria Canale. In questo intenso primissimo piano di Gianna Maria Canale si conclude il film e si concreta tutto l'orrore per la storia di Ugolino della Gherardesca.